Convocata per le 12 la tanto attesa ufficializzazione delle deleghe della Giunta Alessandrini, all'indomani della presentazione della sua Giunta. Tutti presenti per conoscere incarichi e pertinenze, ma ci sono voluti 40 minuti prima che il Sindaco aprisse le porte alla stampa. Ancora qualche dettaglio da aggiustare forse. A presentarsi tutti i componenti della Giunta che hanno sfilato uno ad uno pronti all'appello ad attirare l'attenzione dei più questa scena. Un po' fa sorridere qualcuno l'ha paragonata all'immagine del primo giorno di scuola, quello in cui i tuoi genitori ti guidano per mano fino alla porta della classe. Lì sarà impossibile entrare, allora immancabile lo sguardo di incoraggiamento. Gianni Teodoro affianca la giovane figlia Veronica fino all'ultimo minuto tra i sorrisi dei presenti. Poi entra e siede per la prima volta al tavolo degli assessori. A lei vengono affidate le deleghe alle politiche giovanili, all'associazionismo sociale, i rapporti con il mondo del volontariato, l'agenda 21, il marketing territoriale, il patrimonio. Tutte pertinenze di stampo social, tranne quella che fa storcere il naso, cioè il patrimonio. Nessuna sorpresa invece per le altre assegnazioni. A sedere, come vice sindaco al fianco di Alessandrini, ci sarà un veterano del PD, Enzo del Vecchio, il saggio, a cui vengono destinati i lavori pubblici, la manutenzione delle strade, il risanamento del fiume Pescara, il piano regolatore portuale, la mobilità, la protezione civile. Poi la Marcheggiani si guadagna deleghe sull'ambiente, patrimonio culturale, la differenziata, le politiche energetiche. Bruna San Massimo era stata chiamata per occuparsi dei conti. Ecco dunque le deleghe a bilancio, finanze, provveditorato, programmazione economica, controllo di gestione e spending review. Giuliano Diodati ottiene deleghe alle politiche sociali, piano zona, sanità, sport, grandi eventi sportivi e impianti sportivi. Giacomo Cuzzi invece attività produttive, commercio, turismo, artigianato, industria, pesca, esercizi pubblici, recupero, siti industriali dismessi, sviluppo e valorizzazione delle periferie. Sandra Santa Venere del personale, dell'edilizia privata, semplificazione amministrativa, servizi demografici, tutela del mondo animale, pari opportunità. Giovanni Di Giacomo ottiene le politiche culturali, la pubblica istruzione, le menze scolastiche e l'edilizia scolastica. Infine Adelchi Sulpizio, progettazione, sviluppo, manutenzione parchi, edilizia residenziale pubblica, housing sociale, delocalizzazione delle antenne di San Silvestro e la polizia municipale. La squadra è fatta, i ruoli assegnati, ora inizia il lavoro del primo governo firmato Marco Alessandrini.